L'esperienza con il gruppo Wild Sailing è stata ottima direi perché tutti i ragazzi a bordo sono decisamente molto preparati, conoscono la vera perfezione, sanno come far andare una barca al massimo delle sue possibilità e sanno manovrare. Sono degli ottimi marinari senza dubbio, era tanto che io non avevo un equipaggio così preparato sinceramente alle mie dipendenze.